... che il Fogalottino ha presentato 27 giorni fa, attenzione perché stavolta è sempre dalla palestra Galactus 2000, lo show della compagnia di arte, teatro, danza, coreografia maestro Luca Rena, le vogliamo maestro Accademia Fogalottino Catania, accorgiamoli con un grosissimo applauso, signori di Paschera, clave e coreografia. Il tema è quello dell'affrata. Signori, attenzione, a voi, ritmo, The Adams Family, buon musica! Se i ragazzi gli fanno un po' di spazio, ci fanno un po' di spazio, quanti a base dietro, grazie. Grazie! 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 Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!